Lucas, siamo qui a fare la tua prima intervista in italiano per festeggiare un traguardo molto importante, il tuo primo contratto da professionista con il Verona. Cosa vuol dire per te? Per me è un sogno che si realizza. Io quando sono arrivato qua non ho mai pensato di firmare un contratto tra i professionisti e sono molto contento per questo, per una società come la Las Verona e per me è un sogno. Ma se non pensavi di firmare il contratto, cosa pensavi quando sei partito dal Brasile appena un anno e mezzo fa? Quando sono partito sono venuto per fare una prova, non me ne aspettavo un contratto tra i professionisti, quindi per me è davvero un sogno che si realizza. In Italia hai avuto conferma delle tue ottime qualità calcistiche? Sì, il Verona mi ha visto, mi ha aperto le porte e farò bene, sicuramente darò tutto e cercherò di far bene. Mi hanno detto che è stato più difficile adattarsi al freddo dell'Italia che al calcio italiano, è stato un inverno difficile quello scorso il tuo? È stato molto difficile perché in Brasile, come sapete bene, è sempre caldo, invece qui in Italia sono arrivato con l'inverno a tutto, freddo e tutto, però vabbè diciamo che mi sono adattato bene. Anche l'italiano lo sai già veramente molto molto bene, però fino a 17 anni tu cosa hai fatto in Brasile? Come hai giocato a calcio e dove l'hai fatto? Io ho cominciato a giocare a calcio 5, come tutti i brasiliani, poi sono andato al Corinthians, ho fatto un anno lì, poi sono andato al Palmeiras, le cose non sono andate bene e poi sono venuto qua. La tua famiglia ti segue da lontano? Sì, mi segue da lontano, mi manca un po', però è un sogno che anche per loro si sta realizzando. Ti faccio una domanda sulla primavera perché sono due anni che tu sei praticamente titolare fisso e insomma al di là di come è finita la scorsa stagione abbiamo visto tante buone cose da te. Parlando di quest'anno invece, si sono lasciati dei punti per strada, l'obiettivo è quello di comunque arrivare dentro il playoff e giocarsi tutto? Beh, purtroppo sono lasciati qualche punto, però il nostro obiettivo è arrivare ai playoff e andare in primavera 1. Guardandovi da fuori, sembrate veramente un gruppo di bravi ragazzi che si vogliono anche bene, me lo confermi. Sì, sì, è vero, ci vogliamo tanto bene, è un gruppo di ragazzi bravi e anche quando giochiamo si vede che siamo bravi e possiamo fare ancora meglio. Un piccolo sogno lo avevi coronato per chiudere già quest'estate quando hai fatto quell'amichevole in Germania con il Verona, hai tirato uno dei rigori decisivi, avete alzato insieme tra l'altro ad altri tuoi compagni della primavera, insieme a quelli della prima squadra, quel trofeo. Alzare un trofeo insieme a Pazzini di Carmine per me è davvero un sogno e poi c'era anche Alex, Tupta, Danzi che abbiamo giocato insieme l'anno scorso e per me è stata una soddisfazione enorme. Complimenti in bocca al lupo. Grazie, crepi.